Storico della città, storico di tante cose e storico anche della gastronomia. E la tradizione gastronomica ferrarese ha avuto sugli stessi messi sbugo, cioè il grande scalco. Posso ricordare anche Giovanni Battista Rossetti, che viene subito dopo il messi sbugo, che era lo scalco della sorella dell'ultimo duca di Ferrara, gliel'avevano regalato in sostanza e quindi lei va a Urbino, si separa dal marito Urbino, ritorna a Ferrara e si riporta i Rossetti dietro. Rossetti è l'inventore dei cappellacci, cioè per la prima volta li chiamavano Tortelli in quel momento, però c'è una lunga tradizione ferrarese, quindi dal messi sbugo attraverso Rossetti, passando attraverso tutto lo scalare, c'è un'infinita letteratura, chi ha voglia durante le vacanze di Natale può scaricarsi da certi siti tipo Archive o anche Google Libri, si trovano nelle prime edizioni e uno si gode... Questi libri di ricette? No, non sono libri di ricette, perché dipende da chi scriveva il libro. Sostanzialmente gli scrittori di libro si dividono in tre grandi categorie. Lo scalco, che era il supervisore di tutto quanto il banchetto, c'era il trinciante che pensava a porzionare le varie vivande, e poi c'era il cuoco che operava all'interno di questo grande performance che è il convitto rinascimentale, dove tutto avveniva perché si mangiava, ma si cantava, si ballava, si ascoltava. Un grande rito, però noi parliamo dei banchetti nobili, degli aristocratici, di palazzo. Non si parlava anche qui. Mentre abbiamo una letteratura che parla dei grandi banchetti, non c'è una letteratura altrettanto varia che ci indichi che cosa avveniva per questi signori in tutti i giorni. È chiaro che il grande banchetto tu lo fai quando il duca si sposa. Il duca di Ferrara, l'ultimo, sposa la figlia dell'imperatore d'Austria. Che cosa succede? Il banchetto, la prima cosa che fanno per il banchetto, adornano la volta, dove avverrà il banchetto, con grandi ondate marine. Vanno a Faenza e ordinano un servizio di piatti dove ci sono conchiglie, capi e robe del genere. Quindi c'era un modo di... Una scenografia quasi teatrale. Ma non era una scenografia fino a se stessa. Doveva celebrare il potere, ma anche celebrare la capacità dell'uomo di superare la natura. Grazie a tutti.